buongiorno buon 25 aprile vi parlo da catania e l'issico a nome dell'issico istituto siciliano per la storia dell'italia contemporanea oggi tutti quanti noi insieme a voi avremmo voluto partecipare a una manifestazione parlare di resistenza ricordare i nostri partigiani ricordare la relazione che c'è tra quelle vicende e la nostra vita politica sociale ricordare il fondamento della nostra democrazia insomma perché anche noi anche noi dalla sicilia i nostri partigiani pur essendo la sicilia liberata da un po di tempo dalle armate anglo-americane i nostri partigiani però i nostri fratelli padri mio padre anche erano in nord italia o in altre parti del territorio occupati degli italiani e parteciparono in qualche modo alla resistenza i siciliani furono ricordo il gruppo di meridionali più numeroso nelle brigate partigiane tutte le brigate partigiane di tutte le regioni in cui si combatte e noi negli anni scorsi abbiamo spesso ricordato questa vicenda e studiato questa vicenda abbiamo pubblicato di recente anche un volume su questo argomento insieme all'istituto Gramsci di Palermo ma oggi non è di questo che dobbiamo parlare oggi dobbiamo parlare della della nuova resistenza che noi dobbiamo opporre al virus e alle disgrazie che ci porta che non sono solo disgrazie mediche quelle già abbastanza gravi ma anche di carattere sociale politico e il civismo innanzitutto importante civismo che è un valore della resistenza e è un'arma che noi dobbiamo usare per contrapporci al virus alla diffusione del virus ma non solo questo emergono con forza drammaticamente delle diseguaglianze sociali qui al sud come al nord come in tutte le parti d'italia e in tutte le altre parti della del mondo che sono colpite dal virus e noi antifascisti e insieme a tanti altri amici oggi ci rendiamo disponibili per aiutare chi ne ha bisogno sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista della difficoltà fisica a rifornirsi sia anche dal punto di vista psicologico e anche a Catania ci sono notevoli iniziative di collaborazione con i servizi sociali e con la protezione civile per organizzare questa cosa in modo particolare voglio sottolineare la presenza di una rete che si chiama restiamo umani e che collabora fortemente a questo tipo di attività ma noi qui siamo in sicilia e in questi giorni le nostre coste sono anche come accaduto in passato raggiunte da barconi da migranti che scappano dalle guerre scappano da altri e d'altri flagelli dall'africa da altri posti più sfortunati di noi e arrivano le altre disgrazie non hanno smesso di essere operanti arrivano i barconi si capovolgono su questo c'è un dibattito un confronto e nell'interno dell'opinione pubblica italiana e accoglierli non accoglierli noi riteniamo che sia giusto accoglierli questo il messaggio che vogliamo lanciare a tutti voi perché ricordiamo come i nostri genitori i nostri soldati che allora nel 43 e nell'otto settembre del 43 si sbandarono furono accolti furono accolti dai dai polentoni dai settentrionali nelle loro case a costo a costo della vita a costo di sacrifici e furono accolti e salvati e da lì cominciò la resistenza e noi riteniamo che da qui debba partire anche un elemento di solidarietà con con gli altri nel mondo e speriamo anche che l'europa possa fare qualcosa e trovare il modo di essere realmente una unità politica operante e democratica restiamo umani ora è sempre resistenza 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 e non dimentichiamoci di restare a casa grazie 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 Grazie.